Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video, io sono Song e oggi parliamo di investimento. La forma più semplice di investimento e meno rischiosa è quella del deposito, ovvero depositare i vostri soldi presso una banca o un istituto e riceverete degli interessi in cambio su quel deposito. Non so neanche se considerare deposito un investimento perché è talmente semplice. Qua sicuramente molti mi diranno, ma quale investimento che in Italia le banche danno lo 0,001% sul deposito? Anzi è già buono se non ti vengono a chiedere i soldi per custodire il vostro denaro nella loro cassaforte. Il miglior tasso di deposito che ho trovato in Italia è del 1% lordo e al netto delle tasse sarà circa 0,75%. Giusto una curiosità ragazzi, in Svizzera il tasso di deposito è dello meno 0,75%. Questo vuol dire che siete voi a dare i soldi alla banca per tenere il vostro denaro. Ecco perché tutti i banchieri vanno in Svizzera a lavorare. Inoltre ad aggravare la situazione c'è anche di mezzo l'inflazione. E quindi anche se non fate niente ragazzi, anche se tenete i vostri soldi sotto le vostre coperte, nella vostra cassaforte di casa, sotto il letto, questi perdono di valore. Soprattutto in questi periodi dove l'inflazione è altissimo. Cioè negli Stati Uniti l'inflazione è di 5,5% ragazzi, è altissimo. E questo significa che il vostro denaro perde di 5,5% di valore ogni anno, se andiamo avanti così. Ma allora perché ci parli di deposito se i tassi di deposito sono così bassi o addirittura negativi? Mica posso vedere i miei risparmi diminuire di giorno in giorno. Beh ragazzi, qui in Europa i tassi di deposito sono ancora bassi. In Asia, in particolare in Cina, il tasso di deposito che le banche cinesi danno sono circa di 2 o 3% a seconda se è vincolato o non vincolato. È già tanto se lo confrontiamo al tasso di deposito che c'è qui in Europa. Ma se vi dicessi che esistono interessi sul deposito di 12%? Ci credete? So già che molti mi stanno dicendo ma è impossibile, ma dove starai mettendo i tuoi soldi in posti rischiosissimi e dove la volatilità è altissima. Allora ragazzi, il fattore rischio c'è sempre. Ma qua l'investimento non è rischioso. Ma secondo me neanche tantissimo perché si tratta di una piattaforma che io ritengo essere uno dei migliori se non la migliore nel suo settore. Rischio c'è ma contenuto, ovviamente è da non mettere tutto il proprio patrimonio. Prima di raccontarvi tutto ragazzi, tengo a precisare che non sono un consulente finanziario e questi che sto per dire non sono consigli finanziari, ma sono soltanto opinioni personali basati sulla mia propria esperienza. La piattaforma di cui sto parlando si chiama Crypto.com un'applicazione e piattaforma di criptovalute fondata nel 2016 dove potete comprare e scambiare le criptovalute. Ora non vi sto dicendo di investire in criptovalute perché è un mondo molto rischioso e molto volatile. O forse. Beh se vi parlassi di Bitcoin, Ethereum e Binance Coin eccetera eccetera, allora sì, sono molto rischiose e sono molto volati perché il valore sale e scende ma anche di tanto. Ma dovete sapere che esistono anche le cosiddette stablecoin, il cui valore è legato a una valuta vera e propria che può essere per esempio dollaro. Consideratelo un po' come se fossero delle valute digitali il cui valore è abbastanza stabile e poco volatile e quindi meno rischioso proprio perché è legata ad una vera e propria valuta. Le due stablecoin più famose sono USDC e USDT. Quindi anche se il mercato del criptovalute dovesse un giorno scendere di tantissimo 40-50% o salire di 30-40% queste stablecoin non subiscono nessuna influenza e il loro valore rimane lì e basta. A meno che la valuta qui sono legate per esempio in questo caso nel caso di USDC e USDT e il dollaro a meno che il dollaro scenda. Si può succedere ma il dollaro scende di poco e sale di poco, non è che scende da un giorno all'altro del 30-40% e di conseguenza anche queste stablecoin salgono e scendono di poco, quindi il rischio è un po' contenuto da questo punto di vista. Detto questo, ora per avere 12% di interesse bisogna depositare USDC o USDT nella piattaforma crypto.com sotto forma di stake. Ora vi mostro il tutto dalla A alla Z e poi voi a decidere se farlo oppure no. E ricordo ancora una volta, questi non sono consigli finanziari ragazzi. Allora prima di tutto dovete iscrivervi, quindi create il vostro account, create il vostro password e procedete con la KYC, ovvero caricate i vostri documenti di riconoscimento e aspettate che la piattaforma ve li confermano. A questo punto avrete l'accesso all'app e vi verranno date le coordinate bancarie vostre con il vostro nome dove potete depositare i soldi tramite un bonifico. Dopo aver caricato i soldi potete a questo punto comprare USDC o USDT. È un po' come se state comprando il dollaro virtuale. A questo punto non vi resta che andare sotto menu, poi in stake e depositare i vostri USDC e USDT che avete appena acquistato. Potete scegliere mesi a cui vincolare, se decidete di non vincolare allora ottenete l'8%, un mese di vincolo 10% e tre mesi di vincolo 12%. riceverete gli interessi di deposito, se non erro, ogni settimana sotto forma di stablecoin che avete messo in stake. Ragazzi pensate che sia finito qui? Depositare così è semplice! No ragazzi non è finita qui ed è qui che arriva la chicca. Esiste un metodo che vi farà sì ottenere il tasso di deposito di tre mesi, cioè 12%, ma nello stesso tempo potete avere ogni mese una certa somma che potete decidere se ritirare o se continuare a vincolare. In questo modo se avete urgenza sapete sempre che avete una parte di denaro disponibile ogni mese ma nello stesso tempo senza rinunciare al tasso di interesse di 12% di tre mesi. Come si fa quindi? Allora il metodo è abbastanza semplice. Innanzitutto decidete la somma che volete vincolare, che volete depositare. Poi questa somma lo dividete in tre parti. Mettiamo che iniziate a depositare 1 gennaio, quindi la prima parte lo mettete a vincolo di tre mesi con 12% di interesse, poi la seconda, la terza parte lo mettete a vincolo di un mese con il tasso di deposito di 10%. A febbraio la prima parte che avete messo tre mesi non è ancora scaduta, la seconda, la terza parte che avete messo un mese è scaduta. Quindi a questo punto sulla prima parte non potete fare niente, sulla seconda parte lo prendete e lo mettete a tre mesi, mentre la terza parte continuate a vincolarlo per un mese. Arrivati a marzo avete la prima parte e la seconda parte che sono ancora vincolati, ma la terza parte è svincolato. A questo punto prendete anche la terza parte e lo mettete a tre mesi di vincolo con un tasso di deposito di 12%. Arrivata ad aprire scade la prima parte che avete messo a tre mesi e quindi qui potete decidere se prenderlo o rimetterlo a tre mesi e continuate così. A partire da ora ogni volta che scade un vincolo lo rimettete a tre mesi. Vedete che facendo in questo modo ogni mese avete una somma che scade e che potete decidere se ritirare oppure se rimettere a tre mesi con 12% di interesse. In questo modo state prendendo il tasso di deposito di tre mesi che è di 12% ma ogni mese avete una somma disponibile qualora avete qualche urgenza o volete prelevare. Interessante no? A questo punto ragazzi ho un po' di considerazione da fare. Non dovete farvi ingolosire dal tasso di deposito del 12%. Sì me ne rendo conto anch'io che è altissimo ma non dovete essere troppo avidi e depositare tutti i vostri soldi lì dentro. Se volete potete mettere una piccola parte del vostro risparmio, una parte che siete disposti a perdere qualora l'applicazione, la piattaforma fallisca. E come diciamo in Cina ragazzi non dovete mettere tutte le vostre uova nello stesso cesto. Crypto.com riesce ad avere un tasso di deposito così alto perché le commissioni che chargia per quelli che comprano o vendono le criptovalute o altri servizi sono abbastanza alte. Ma questo non succede soltanto in queste piattaforme, anzi in tutte le piattaforme di criptovalute le commissioni per adesso sono abbastanza alte. Inoltre Crypto.com presta anche i soldi ovviamente collateralizzati e con un tasso di interesse abbastanza altino. Terzo punto. Non si sa fino a quando durerà questo tasso di deposito così alto del 12%. Prima o poi dovranno scendere perché è veramente alto. Col nascere di tante piattaforme di criptovalute sul mercato c'è più concorrenza e sicuramente poi tutti dovranno diminuire le proprie commissioni per attirare più utenti e quindi visto che le piattaforme chargiano di meno e le entrate saranno di meno e le entrate saranno di meno quindi saranno disposte anche a pagare di meno sul vostro deposito e di conseguenza il tasso di deposito scenderà. Quarto punto. Come state detenendo stablecoin, USDT e USDC il cui valore è legato al dollaro? Siete esposti al rischio che il dollaro scenda nei confronti dell'euro qualora l'economia americana andasse male ma come già detto qui la volatilità è abbastanza contenuta anche perché l'America che rimane ancora per ora la prima economia mondiale non permetterebbe mai che il dollaro si indebolisse non essendo un paese basato sull'export. Quindi per questo motivo detenere USDT e USDC che equivale a detenere il dollaro è abbastanza sicuro. Un'ultima cosa ragazzi prima di lasciarvi se volete provare le piattaforme vi lascio giù in descrizione il codice amico con cui potete registrarvi. Qualora vi registrate con questo codice otterrete 25 dollari come bonus se sbloccate la loro tessera e nello stesso tempo fate ottenere il bonus di 25 dollari anche a me e io vi ringrazio se lo fate. Bene ragazzi per questo video è tutto spero che vi sia piaciuto se è così lasciate un bel like e iscrivetevi al canale per supportarmi. Grazie per aver guardato e noi ci vediamo alla prossima. Bye bye!